Buonasera a tutti, shalom, bentrovati, benvenuti ormai al quinto anno del consecutivo Baruch Hashem della nostra diretta di Torah prima del giovedì. Prima di cominciare, come vi consiglio, diamo qualche moneta in Zedakah. Zedakah salva la vita, salva il mondo, salva l'anima, salva tutto. Buonasera, bentrovati, stasera leggiamo la parasha, studiamo la parasha di Vaishlach, ma prima ricordiamo che oggi, proprio in questo istante, oggi durante il giorno era il 14 di Kislev, Kislev è il giorno dell'anniversario di matrimonio del Rebbe con sua moglie. Da loro possiamo imparare veramente cos'era una vera coppia, cos'era l'ispetto un uomo per la donna. Ci sono tanti articoli che girano in giro, che abbiamo messo oggi sulla mia pagina e altrove, perciò vale la pena veramente di leggere cos'è questo giorno così grande del 14 di Kislev e che tutte le persone qui presenti possano, chi è sposato, possa avere veramente una grande benedizione a trovare armonia e pace familiare così come era dalla famiglia del Rebbe. Inoltre questa settimana che arriva, il martedì sarà il 19 di Kislev, il compleanno della Chasedut che ogni anno noi raccontiamo e festeggiamo, che ricordiamo che il primo Rebbe di Lubavitch, all'epoca della Russia comunista, che lui era stato messo in prigione perché lui divulgava Torah in generale, ma in particolare parole di Chasedut. Chasedut è la parte più profonda, più nascosta, l'etica ebraica e allora dal cielo c'è stato questo decreto di fermare il divulgamento della Torah chassidica perché forse non era il momento giusto, tutta lunga storia. Alla fine Rebbe, quando è stato in prigione, è stato liberato proprio dal governo russo per insegnare che in quel momento dal cielo anche, perché ovviamente tutto quello che succede qui in basso è soltanto un riflesso di quello che c'è in alto, dal cielo hanno tolto questo decreto negativo, questa domanda, questo dubbio, se è veramente il momento che tutte le perle della Chasedut, le parti più importanti, segrete da Torah vengono messi a disposizione di ogni persona, anche chi non è erudito. E allora il 19 di Kislev viene a festeggiare il fatto che la Chasedut è stata ufficializzata, ma non soltanto dall'impero comunista, zarista, russo, ma dal cielo. Vuol dire se qualcuno in cielo, qualche angelo, ha optato, ha dubitato se era il momento giusto di fare una cosa del genere, di dare tutte le rivelazioni, delle perle della Torah a tutti, perciò nel frattempo direbbe è stato arrestato, ma dopo in cielo hanno decretato sì. È arrivato il momento che tutto il mondo venga impregnato dello studio e del comportamento della Chasedut. La Chasedut che cos'è? Semplicemente il modo di studiare che noi facciamo ogni giovedì sera, che prendiamo la Torah, ovviamente la Chasedut è della Torah, prendiamo i passi della Torah e lo guardiamo con un'ottica profonda, andiamo in profondità di ogni passo perché ogni storia che noi vediamo, esattamente stasera vedremo per l'ennesima volta la Chasedut come vede? Studieremo dei passi e vedremo la dimensione chassidica, cosa ci viene insegnare, proprio tutt'altra cosa di quello che una persona può imparare nel modo semplicistico di quello che la Torah insegna, perché la Torah, ricordiamoci, ci sono shivim panim la Torah, 70 aspetti della Torah, 70 livelli della Torah. C'è la Torah che noi leggiamo, è la Torah semplice che noi leggiamo la traduzione, però molte volte, nascosto tra le righe, noi possiamo vedere un qualcosa di totalmente profondo, di totalmente esoterico, che leggendo semplicemente la Torah non vediamo questa spiegazione, ma i maestri della Chasedut, i vari rebbe della Chasedut hanno scavato in profondità e hanno trovato e ci hanno regalato queste perle di saggezza che noi, con le quali noi riusciamo a letteralmente guarire la nostra anima. Noi abbiamo nel nostro canale di gym, ogni domenica abbiamo una lezione di Tania, ogni giorno abbiamo una lezione diversa, tutte sempre basate sulla Chasedut, ma abbiamo una domenica con Rav Yosef Haddad, una lezione di Tania, che vale la pena partecipare o comunque di vedere la ripetizione, la registrazione o sul sito, o su Youtube o su Facebook, perché tutte le nostre lezioni, una volta registrate, le ripetiamo, le mettiamo affinché le persone possano vederle anche se non in diretta, ma nei giorni dopo. Perciò, come si dice, I urge you, vi invito a tutti quanti di prendere a cuore lo studio della Chasedut, perché è la guarigione dell'anima, cercate le lezioni di Chasedut che sono piene online e in questo modo c'è scritto che la Chasedut proprio porterà la venuta, anticiperà la venuta di Mashiach. Ok, detto ciò, detto ciò, Parashah di Vaishlach, Vaishlach racconta di quando Yaakov, Giacobbe, dopo che è stato via di casa, perché è andato via da Esau, che voleva ucciderlo, e va nella terra di Haran, e lì abita dal suocero, la storia l'abbiamo già detta e ripetuta, lui dopo vent'anni che sta in Haran, finalmente arriva il momento di tornare indietro. Dio gli dà il messaggio, torna in terra di Israele. La tua missione in Haran è finita. Adesso, la Torah si chiama Vaishlach, Vaishlach vuol dire mandare. Yaakov manda dei messaggeri verso Esau, il fratello che non vede da ormai 34 anni in realtà, non solo da 20 ma è 14 anni prima che è andato a studiare, sono 34 anni che Yaakov non vede Esau e non sa Esau a che livello è, se ancora lo odia, se ancora vuole ucciderlo o quant'altro, manda dei messaggeri a portare dei doni a Esau e gli manda un messaggio di pace, perché adesso ritornando dovrà per forza incontrarlo per strada, e allora gli manda un messaggio di pace, gli manda tanti regali, però gli angeli tornano, gli angeli o i messaggeri che siano, tornano dicendo a Yaakov, guarda che tuo fratello non ha cambiato la sua idea, lui sta venendo contro a te con 400 persone che ti vuole uccidere, perciò lui in questi anni ha tenuto il rancore verso di te, che brutta cosa. Adesso vediamo, leggiamo dei passi dalla Torah, di cosa manda Yaakov, Giacobbe cosa manda in regalo a Esau per cercare di addolcirlo, cercare di calmare un po' le acque. 32, 18, ordinò, allora lui manda delle persone a portare appunto questi doni a Esau, ordinò al primo dicendo, quando mio fratello Esau ti incontrerà e ti domanderà dicendo di chi sei, dove vai, di chi è ciò che ti sta avanti, gli dirai in risposta, tutto quello che tu vedi, io, il bestiame, eccetera, appartengono al tuo servo Yaakov. E' un dono inviato al mio signore, a Esau, ed ecco, egli pure si trova dietro di noi. Cioè Giacobbe mi manda avanti per portarti i regali e Giacobbe stesso sta per arrivare anche lui. Giacobbe ordinò anche al secondo e al terzo personaggio, anche a tutti coloro che seguivano le mandrie, dicendo, a ognuno dava la direttiva, direte così a Esau quando lo troverete. Direte, pure il tuo servo Yaakov si trova dietro noi, poiché ha detto, placcherò la sua ira. Perché questo? Perché Yaakov tra le salle e le salle appunto diceva, placcherò la sua ira con il dono che mi precede e in seguito vedrò il suo volto, forse mi accoglierà bene. Adesso, qua vediamo quest'ultima frase, è la frase chiave della nostra lezione. Perciò ho dato un piccolo anticipo delle frasi per arrivare a quest'ultima frase che in realtà tutte le tradizioni, le traduzioni di tutte le Torah in qualsiasi lingue, noi sappiamo che tradurre vuol dire tradire, perché la traduzione non è mai, mai, mai inerente al 100% al testo vero e proprio. Specialmente l'ebraico, che è un testo così, specialmente l'ebraico biblico addirittura, che è un testo così particolare, a volte per poter tradurre un passo della Bibbia, della Torah, bisogna per forza cambiare qualcosa, perché altrimenti la frase non avrebbe nessun senso. Ecco, quest'ultima frase, quest'ultima frase, adesso ve la traduco nel vero modo come viene tradotto, non la traduzione che ho letto, ma cercherò di tradurla parola per parola, e vediamo che dà tutto un altro significato. Ok, la frase è la seguente. Eccolo qua. Ve amarte, direte, anche, ecco il vostro, il tuo servo Giacobbe è dopo di noi, è dietro a noi, perché ha detto Acchaprafanav, scuserà la mia faccia. Non c'è, qua lo traduce, placcherò la sua iva, ira, ma in realtà, dice, scuserà la sua faccia, con il regalo che va davanti alla mia faccia, e dopo di che farò vedere, farà vedere la sua faccia, forse perdonerà la sua faccia. Ovviamente, vedete che è una traduzione che sembra ostrogotto. E qual è la parola che abbiamo sentito diverse volte? Faccia. Infatti, anche dopo, dice, e gli ha mandato il regalo davanti alla sua faccia. Qua, questa parola faccia, ripetuta cinque volte, si intende la sua presenza davanti a lui. Lefanav, per esempio, vuol dire davanti alla sua faccia, vuol dire di fronte a lui. Perciò, come ho detto prima, prima ho detto la frase giusta in italiano, e poi ho dato la traduzione un po' incomprensiva, perché, per farvi vedere che qui viene ripetuta cinque volte la parola faccia. Adesso, andiamo avanti a leggere. Andiamo avanti a leggere. Passato lì davanti il dono quella notte, che pernottò nell'accampamento. Ok? Quella notte si alzò, prese le sue due mogli, Giacobbe, le sei due serve, e i suoi undici bambini, e attraversò il guado del Yabok, il fiume Yabok. Lì li prese, fece loro attraversare il torrente, e fece attraversare ciò che gli apparteneva, tutti i suoi averi. Iacob, ecco, questa frase qua, attenzione, Iacob fu lasciato solo, e un uomo lottò con lui, fino allo spuntare dell'alba, la famosa battaglia, battaglia che aveva fatto Giacobbe, con chi? Con quello che viene chiamato l'angelo di Esau, del fratello. Perciò il fratello ha mandato davanti a lui un angelo per combattere contro a Giacobbe. Questa è una delle spiegazioni. Perciò quella notte lì, Giacob, c'è scritto, fu lasciato solo. Ricordatevi questa frase, perché poi la riprenderemo. e dice che un uomo lottò con lui fino a spuntare dell'alba. L'uomo, che poi era un angelo, vide che non ce la faceva contro di lui e gli colpì l'articolazione dell'anca, come noi sappiamo, il nervo sciattico. L'articolazione dell'anca di Giacob si slogò mentre lottava con lui. Ok? L'uomo, poi c'è l'angelo, disse lasciami andare poiché è spuntata all'alba. Perciò tutta la notte loro fanno questa battaglia. Alla fine, prima del che del sorge del sole, l'angelo vede che non ce la fa più, lo ferisce all'anca e prima che arriva all'alba l'angelo vuole subito andare via. Giacob disse non ti lascerò andare se non mi benedirai. E l'uomo gli disse qual è il tuo nome? Sono tutte frasi che poi, qua sembra normale, ma leggeremo poi che sono delle parole stranissime appunto, dal punto di vista chassidico. L'uomo gli disse qual è il tuo nome? Perciò l'angelo disse a Giacob qual è il tuo nome? E disse Giacob. L'uomo disse il tuo nome non si dirà più Giacob bensì Israele e gli cambia il nome perché Israele? Poiché hai prevalso hai vinto sui esseri divini perché lui era un angelo un essere divino perciò tu da ora in poi hai combattuto e hai vinto anche contro una divinità un essere divino perciò ti chiami Israele che Israele vuol dire prevalere vincere hai prevalso sui esseri divini e su persone e li hai soprafatti Giacob domandò e disse a questo punto dopo che Giacob gli ha detto come si chiama e l'angelo gli ha cambiato il nome da Giacob a Israele allora a questo punto Giacob dice ok io mi chiamo Giacob e tu come ti chiami? E disse dimmi per favore il tuo nome e l'uomo disse perché chiedi il mio nome? e lo benedisse vuol dire l'angelo non ha risposto alla sua domanda perché chiedi il mio nome? e poi lo benedice Giacob chiamò quel luogo dove è successo questa battaglia Peniel di nuovo faccia Peniel vuol dire volto di Dio perché l'ha chiamato in questo modo poiché ho veduto ho visto Dio faccia a faccia e ho avuto salva la vita dice Giacob perché in questo posto Dio mi ha salvato la vita perciò volto di Dio oltrepassata Penuel questo posto risorse il sole e degli zoppicava un'altra parola che vedremo dopo zoppicava sulla sua anca perciò fino ad oggi i figli di Israele perciò gli ebrei non mangino il nervo ischiatico il nervo sciattico che è nell'articolazione dell'anca poiché l'uomo aveva colpito l'articolazione dell'anca di Yaakov nel nervo ischiatico e qui guardiamo abbiamo visto la traduzione vera e propria di questi passi adesso cerchiamo di capire un po' più in profondità questa storia che è veramente veramente fantastica fate attenzione state un attimo tranquilli per 20 mezz'ora che veramente anche questa lezione può veramente cambiare la vita di ognuno di noi perché entra proprio nella nostra psiche e ci aiuta a scavare dentro di noi e comunque di diventare persone migliori perché quando tu scavi trovi e dentro la nostra psiche bisogna sempre scavare a volte troviamo qualcosa di malato e quella cosa di malata va ovviamente affrontata e va curata e stasera la lezione sarà proprio basata su come curare la nostra persona curare in modo psicologico spirituale e morale adesso abbiamo visto che subito dopo non l'abbiamo ancora letto la riga la riga che l'angelo va via gli cambia il nome la Torah racconta di colpo cambia scenario e vediamo che racconta del fatto che Esau e Giacobbe si incontrano loro perciò lui ha lottato tutta la sera ha cambiato il nome la riga dopo parla dell'incontro fatidico tra i due fratelli Esau e Giacobbe anzi dei due gemelli Esau e Giacobbe un attimo prima viene raccontato che Esau sta venendo con un esercito di 400 e lo vuole uccidere poi viene la storia del combattimento e la riga dopo si incontrano e cosa succede? Uno si aspetta che Esau provi a uccidere il fratello ma vediamo un colpo di scena cos'è il colpo di scena? che Esau e Giacobbe si abbracciano piangono uno sull'altro fanno finalmente la pace come deve essere che i fratelli fanno la pace Giacobbe gli dà i regali dice fratello mio tieni all'inizio Esau non vuole accettare no tienili tu poi alla fine gli accetta ma sono delle righe così commoventi un attimo così commovente della Torah che due fratelli che per anni uno era assettato del sangue dell'altro e finalmente si incontrano e come per incanto si abbracciano piangono uno sull'altro si baciano è un momento veramente che tocca il cuore di ogni persona ma la domanda che noi abbiamo ancora è cosa insegna questa idea della faccia che è stata ripetuta cinque volte in poche righe ci sarà un messaggio ecco cosa insegna la ripetizione di questa parola volto faccia teniamo un attimo da parte e lo vedremo alla fine della lezione ora andiamo avanti andiamo avanti questa storia qua che abbiamo appena letto della battaglia con l'angelo prima di incontrare Esau è molto speciale è molto unica in primis perché qui noi cambiamo nome Yaakov cambia nome Yaakov da Yaakov diventa Israele Israele è rimasto in eterno il nostro nome perché la terra di Israele il popolo di Israele i figli di Israele sono tutti i nomi che prima non esistevano prima erano i figli di Giacobbe adesso da questa notte qua dopo la battaglia con questo essere angelico noi non siamo più finalmente non finalmente cambia la nostra essenza perché cambia il nostro nome ricordiamoci il nome di una persona il nome di una cosa il nome è l'essenza della persona in questo caso è la nostra essenza ognuno che ha un nome quel nome è la sua essenza adesso questa storia è speciale uno perché abbiamo detto che cambia il nostro nome e qui la nostra essenza si arricchisce la nostra essenza cambia e due è perché dopo questa battaglia come avevamo appena raccontato così da nulla viene fuori la pace tra Esau e Giacobbe adesso cerchiamo di capire cosa è successo vuol dire che questa battaglia qua non è soltanto una battaglia di due persone o di una persona come un angelo è una battaglia basilare è una battaglia che porta questa luce nuova dove uno cambia la nostra essenza con il nostro nome e due ci fa far pace con Esau perciò andiamo a a vedere in profondità questa battaglia cosa rappresenta ok lì nella Torah prima della battaglia scrive come abbiamo detto prima che Giacob era da solo vi ricordate? la domanda logica è che immagino tanti di voi vi lasciate posta è se Giacob era da solo la Torah dice Giacob era da solo allora come fa a combattere con qualcuno se era da solo cioè sembra proprio una sembra proprio una cosa che sia fuori luogo un'inesattezza allora uno se era da solo con chi ha combattuto due perché Giacob chiede una benedizione a colui che voleva ucciderlo avete mai visto una persona che va da un assassino e dice dammi una benedizione fuori luogo totalmente e l'angelo come abbiamo letto che vuole ucciderlo gli chiede come ti chiami e gli cambia il nome e a quel punto anche Giacob gli chiede il suo nome e l'angelo non glielo dice e poi subito dopo c'è la pace con Esau perciò tutti questi elementi tutti questi passaggi sono intersecati uno all'altro e sono tutti importanti per capire il messaggio di questa lezione se dice fate attenzione seguitemi bene se dice che Giacob era solo e fa la lotta come giustamente Salvatore ci scrive significa che lui sta facendo la lotta con se stesso Giacob in questo momento sta facendo la lotta con se stesso perché se sei da solo con chi puoi combattere se non che con te stesso ma ancora di ampio fondità proprio perché era da solo Giacob poteva lottare con se stesso vuol dire lottare tra sé e sé senza poter scaricare incolpare altre persone dei suoi problemi a volte noi umani siamo campioni a scaricare i nostri problemi a qualcun altro io oggi sono così perché tu perché tu hai fatto questo tu hai detto quello tu mi hai fatto mancare quello siamo campioni non vogliamo prenderci le nostre responsabilità allora qua dice Giacob sta combattendo contro se stesso e finalmente può combattere con se stesso per aggiustare la sua interiorità proprio perché è da solo e non puoi incolpare nessuno perciò vuoi metter a posto la tua vita te stesso dice il testo stai da solo lascia un attimo gli altri appartati da qualche parte e comincia ad andare in introspezione vuol dire lascia da parte non fisicamente lascia il mondo fuori da te un attimo non dare colpe a nessuno e vai in introspezione vai dentro di te qua ovviamente stiamo parlando di una lotta di una battaglia esistenziale che ognuno di noi è obbligato per il proprio bene e per il bene del mondo per il bene dei figli per il bene della famiglia che ognuno di noi deve fare questa battaglia questa lotta tra sé e sé perché è una lotta esistenziale una lotta non una semplice lotta fisica ma un qualcosa che alla fine mi fa star bene come abbiamo detto settimana scorsa vi ricordate che anche era una lezione che parlava di psicologia ogni personaggio della Torah non è soltanto un personaggio ma è una dimensione un qualcosa a livello spirituale psicologico dentro di noi perciò noi da ogni personaggio possiamo e dobbiamo imparare un qualcosa oggi a 360 gradi perciò la storia di questa battaglia allude ovviamente alla nostra vita adesso vediamo di ricomporre la storia e di capire tutti i vari passaggi l'angelo abbiamo detto cambia il nome di Giacobbe perché cambia il suo nome che diritto ha che bisogno ha adesso che nome ha cambiato il nome di Giacobbe il nome di Giacobbe perché Giacobbe è stato chiamato Giacobbe se vi ricordate abbiamo letto nelle parashot scorse che quando lui Giacobbe e Esau stavano per nascere i gemelli nel vento della mamma quando Esau che era il primo è uscito Giacobbe che a secondo teneva il suo calcagno il suo tallone perché lo teneva perché voleva tirarlo voleva prendere il suo posto voleva essere lui Giacobbe il primo a uscire ok voleva prendere il suo posto e allora e Giacobbe di nuovo il nome di Giacobbe perché perché in futuro quando sono nati cresciuti eccetera Giacobbe ha preso la primogenitura di Esau con la storia della minestra delle antichie e si è impadrito anche delle benedizioni che aspettavano a Esau si è travestito è andato e ha preso le benedizioni di Esau perciò qua cosa vediamo Giacobbe il nome per questo è che lo siete chiamato Giacobbe Giacobbe in italiano ma Giacobbe deriva la radice del nome Giacobbe vuol dire anche se in italiano squilla un po' male ma deriva da ingannare e raggirare perciò dice l'angelo no basta tu devi cambiare il nome non puoi continuare a essere Giacobbe non puoi perché Giacobbe è la tua essenza perché il nome è l'essenza di una persona dice l'angelo basta Giacob tu devi cambiare che cos'è prima di rincontrarti con Esau perché tu stai andando a incontrarti con Esau non basta cercare di corromperlo con i tuoi regali con le belle parole il tuo servo io sono mi inchino a te non basta questo se tu vuoi rincontrarti con Esau e fare veramente la pace in profondità con tuo fratello devi prima rincontrarti con te stesso qui l'angelo sta dando sta sgridando Esau infatti questa battaglia che cos'è è l'angelo che sta cercando di migliorare Esau di sgridarlo di spronarlo di aprirgli gli occhi perciò qua dice basta basta essere Giacob beh tu devi diventare qualcos'altro devi rincontrarti con te stesso per questo dice che era solo perché stava combattendo tra sé e sé fino a quel momento seguitemi bene che qua è fantastico questo concetto fino a quel momento Giacob era quello che dava fastidio se vogliamo alla presenza di Esau se lo guardiamo in questi termini come altra volta abbiamo spiegato Esau che era il cattivo poi venire Esau era la vittima in un certo senso del fratello Giacob fino a quando fino a quando Giacob poteva inseguire la vita del fratello tenerlo cercare di essere il primo prendere la primogenitura prendere le sue bendizioni qua Giacob sta rincorrendo la vita di Esau non sta vivendo la propria vita sta vivendo la vita del fratello e allora qua viene l'angelo dice basta essere Giacob che fai l'inganno per essere qualcun altro basta perché se tu continui in questo modo non farai mai pace con Esau perché prima devi fare pace con te stesso cosa vuol dire fare pace con te stesso e adesso lo vediamo ci sono delle persone che non riescono a vivere a coltivare e apprezzare la propria identità il proprio essere la propria vita il proprio io c'è gente al mondo che non ama se stesso per questo sono soli Giacob era solo a combattere abbiamo detto ecco queste persone nel mondo che non accettano quello che sono non amano quello che sono sono fondamentalmente persone sole vuol dire non hanno non hanno nessuno perché sono soli perché non si apprezzano perciò hanno bisogno di vivere la vita di qualcun altro in questo caso la vita di Esau adesso Esau cos'era? è vero Esau non era una persona positiva siamo d'accordo Esau era un rasha quello che vuoi ma un attimo guardiamo le doti che Esau aveva Esau innanzitutto era una persona forte Esau era una persona ambiziosa Esau era una persona carismatica Esau aveva un ottimo rapporto con suo papà con Isacco Esau aveva tante tante cose di positive ripeto era un malvagio ma aveva tante cose positive Esau ma in questo modo se continuiamo a vivere la vita di qualcun altro non riusciamo ad apprezzare la nostra anima la nostra vita il nostro corpo tutto quello che Hashem ci ha regalato noi non lo apprezziamo è come se stiamo tradendo Dio è come se noi non accettiamo quello che Dio mi ha dato se io voglio diventare Esau è un affronto a Dio non accetto non accetto di essere Giacobbe o quello che è ognuno di noi non accetta di essere se stesso e vuole essere qualcun altro perciò questa notte questa notte così importante che c'è questa lotta così vitale per tutti noi questa notte Giacob combatte con se stesso e si chiede a se stesso e da solo non c'è nessuno con lui e tra sé e sei in introspezione e finalmente qua Giacob chiede a se stesso posso finalmente essere Giacob posso finalmente accettare la mia persona posso essere finalmente me stesso lui sta combattendo tra sé e sé questa ambivalenza che lo sta distruggendo da dentro devo continuare a essere lo specchio il riflesso del mio fratellone o finalmente posso cominciare a essere io per quello che sono magari io sono debole certo Giacob era più debole di Esau certo Giacob era più spento di Esau era una persona c'è scritto che lui era un cacciatore che andava faceva Esau era una persona semplice un sempliciotto stava tutto il giorno in tenda a studiare non aveva forza fisica non aveva forza come si dice di influenzare non aveva carisma era tutto l'inverso di Esau e per questo Giacob già dalla nascita non apprezzava se stesso voleva prendere il posto di Esau in tutto e per tutto ovviamente non nella parte immorale di Esau ma nella parte forte voleva prendere il suo posto e finalmente arriva davanti a questa battaglia finalmente rimane da solo vuol dire si concentra su se stesso va in introspezione e si guarda allo specchio per modo di dire dice Giacob basta basta fino a quando vuoi essere la cattiva coppia la brutta coppia di Esau sii te stesso non cercare di essere qualcosa che tu non sei tu non sei Esau e non lo sarai mai nel senso positivo delle cose positive di Esau infatti ascoltatemi bene i passaggi dopo la battaglia la Torah cosa scrive abbiamo letto che Giacob comincia a zoppicare cosa rappresenta l'idea di zoppicare psicologicamente cos'è uno che zoppica fisicamente cos'è uno che zoppica uno che è curvo non riesce a mettere i piedi dritti uno che zoppica lo sappiamo tutto cos'è uno che zoppica ma qua Giacob comincia a zoppicare non soltanto fisicamente perché è tutto connesso col dentro spiritualmente psicologicamente Giacob zoppica nel suo dentro nella sua psiche lui è un zoppo perché non riesce ad andare dritto cos'è uno che zoppica spiritualmente psicologicamente parlando una persona che non riesce a emergere una persona che non riesce a combattere bensì zoppica singhiozza non è non è forte non è stabile singhiozza zoppica Giacob in questo momento in questa serata che è importantissimo questa notte che è da solo lui si trova in questo percorso di cambiamento questo percorso di cominciare a conoscere se stesso apprezzare amare se stesso accettare se stesso però lui in questo momento di cambiamento si fa male si ferisce zoppica per questo che lui va dall'angelo e gli chiede una benedizione perché perché si è fatto male zoppica ovviamente guardiamo parallelo la storia fisica con la storia spirituale psicologica cerchiamo di guardare a 360 l'angelo cosa gli dice caro mio a te non ti basta una benedizione tu hai bisogno di più tu hai bisogno di cambiare il tuo nome abbiamo detto prima vi ricordate che il nome di un bambino di una persona di un oggetto rappresenta l'essenza della persona perciò tu ti posso benedire da oggi a domani ma non funzionerà la benedizione sui te tu devi fare un cambiamento interiore devi cambiare la tua essenza devi cambiare a cominciare da cambiare il tuo nome allora infatti a quel punto l'angelo gli chiede come ti chiami e lui gli risponde Giacobbe e l'angelo dice si lo so io so benissimo che tu sei Giacobbe ma tu tu devi sapere il tuo nome chi sei prima di poter cambiarti il nome tu devi sapere che cosa sei sei te stesso sei Giacobbe adesso che tu capisci quello che sei che accetti per quello che sei allora si allora si che posso e devo cambiarti il nome perché io devo curarti non soltanto esteriormente non basta mettere un cerotto sulla ferita devo andare in profondità a curarti e lo posso fare soltanto cambiando il tuo nome ovvero la tua essenza la tua verità e cosa succede Giacobbe cos'è Giacobbe perché dobbiamo cambiare Giacobbe Giacobbe quello che inganna che raggira che rincorre Esau questo intendo devi cambiare questa essenza non devi più essere qualcun altro che rincorri la vita di un altro si te stesso ma chi è te stesso Israele perciò cambia il suo nome da uno che raggira a Israele cosa abbiamo letto prima nella Torah cosa vuol dire Israele qualcuno che ha combattuto contro forze divine e ha vinto Israele vuol dire viene la parola Sar Sar vuol dire generale capitano vincente Giacobbe da uno che zoppica non fisicamente ma zoppica spiritualmente psicologicamente perché non accetta la sua persona la sua vita adesso cambia da un zoppo diventa un Sar un capitano un vincente un forzuto un gibor perché è riuscito a combattere contro se stesso e lui diventa Israele e quando Iacob chiede il nome all'angelo e chiede e tu come ti chiami cosa ha risposto non gli ha risposto dice perché chiedi il mio nome perché non aveva più bisogno di dire il suo nome perché io sono te l'angelo non poteva dire mi chiamo l'angelo era lui io sono te cosa mi chiedi chi sono io sono te per questo che l'angelo non risponde subito dopo c'è la famosa pace con Esau adesso cominciamo a capire pian piano cos'è successo poche righe prima Esau viene per ucciderlo e poche righe dopo si incontrano si baciano si abbraccino piangono ma che cosa è successo di colpo dal nulla non si sono anche scambiati una parola una parola per dire zero si incontrano si buttano uno sull'altro cosa è successo in quella notte che ha cambiato tutto senza neanche una parola tra i fratelli perché ora quando finalmente Yaakov incontra se stesso quando finalmente Yaakov incontra Yaakov in quella notte fatidica e fa pace con se stesso allora si che anche Esau può incontrare suo fratello Yaakov ma a questo punto lui che rincontra rincontra un Yaakov guarito prima Esau e Yaakov non potevano andare d'accordo perché? perché Yaakov non andava d'accordo con se stesso adesso che Yaakov ha combattuto con se stesso e si è messo a posto con se stesso tra se e se e ha cominciato a guarire psicologicamente ad accettare la sua persona adesso Esau non ha più motivo di odiare Giacobbe perché? perché Giacobbe è guarito Giacobbe finalmente non è l'ombra Giacobbe non è più la minaccia del successo di Esau finalmente Giacobbe è mio fratello perché lui è lui e mi lascia in pace e i fratelli di natura si amano l'un l'altro senza bisogno di tanti motivi è natura che due fratelli si amino l'un l'altro perché vengono dalla stessa madre mi siete mai chiesti com'è possibile che due fratelli due gemelli gemelli dello stesso seme uno possa odiare a morte l'altro e questa è la risposta perché l'altro aveva qualcosa dentro che non funzionava non si amava cioè se tu non ti ami come pretendi che qualcun altro ti ami perciò Esau lo odia e adesso come per incanto Esau lo ama cosa è successo? perché Yaakov ha cominciato ad amare se stesso e Yaakov non è più a questo punto una minaccia che rincorre tutta la vita al fratello Yaakov accetta di essere Yaakov e Esau è in pace ma non finisce qua tornando alla domanda che abbiamo fatto prima all'inizio della lezione faccia perché viene ripetuta cinque volte la parola faccia faccia in ebraico si dice panim panim vuol dire pnim pnim vuol dire interiore faccia vuol dire interiorità attenzione ora i due fratelli finalmente riescono a guardarsi in faccia l'un l'altro cosa vuol dire guardarsi in faccia riescono a guardarsi profondamente interiormente dentro uno l'altro non più schiena schiena come erano prima prima erano schiena schiena non si sopportavano adesso si girano e cominciano a guardarsi la faccia ovvero l'interiorità la persona dentro adesso si che vanno d'accordo allora a questo punto ascoltate bene che Jacopo è guarito perciò Esau riesce a guardare in faccia a Jacopo perché finalmente è guarito e non è più una minaccia per lui a questo punto anche Esau comincia a guarire Esau era un forzuto era quello che volete però era spiritualmente malato era un rascià un malvagio era un assassino cacciava donne degli altri era un malvagio adesso adesso che Jacopo è guarito interiormente finalmente Esau riesce a guardarlo in faccia come un fratello e adesso che sono faccia a faccia vuol dire interiore con interiore profondo con profondo allora Esau dice wow adesso che lui è guarito io vedo wow che persona che ho davanti devo io imparare da lui adesso Esau apprezza così tanto Giacobbe da amarlo infatti Esau cosa dice Giacobbe andiamo avanti insieme rimaniamo amici 34 anni era setato dalla sua del suo sangue e di colpo dice fratello andiamo insieme perché in questo momento anche Esau intraprende il viaggio della sua guarigione potete capire la profondità di questi passaggi attenzione Esau non è ancora guarito fino a oggi dopo migliaia di anni lui è ancora in fase di guarire ma lui la sua guarigione completa arriverà soltanto quando arriverà Mashiach però lui è in fase di guarire grazie a chi? grazie a Giacob quando Giacob lui è guarito anche Esau che è il male ha cominciato a guarire quando il bene incombe quando il bene guarisce quando il bene si inalza influenza anche il male a guarire perciò Giacob sta portando guarigione oltre che a se stesso anche il fratello Esau a tal punto che dice andiamo insieme però appunto la strada è ancora lunga cari amici questa lezione così fantastica mamma mia chassidut capite cosa vuol dire studiare chassidut vuol dire vedere le cose da un'ottica totalmente diversa finora abbiamo visto il Giacob il perfetto il tzaddik il grandioso il povere Esau un rashà un maledetto un assassino la chassidut viene e ti ribalta tutto dice attenzione attenzione Esau poverino era succube di se stesso in primis sì lui ha deciso di intraprendere quella strada di essere un rashà è vero perché ce l'aveva dentro e lui non ha curato questa sua malattia attenzione Esau era un malvagio ma qua vediamo che lo vediamo in un'ottica diversa perché era un malvagio perché soffriva era succube pativa del fratello e il fratello finalmente quando ha cominciato a guarire ha guarito anche il fratello l'altro fratello cari amici ognuno di noi quando dico ognuno dico ognuno se Giacobbe ognuno di noi ha dei limiti finisco la frase se Giacobbe aveva dei limiti da sentirsi in questo modo da volere essere qualcun altro tutti noi tutti noi in questo mondo abbiamo dei limiti ok tutti per guarire i nostri limiti la psicologia insegna che per primo devi accettare te stesso andate da qualsiasi psicologo del mondo la prima cosa che vi dirà vuoi risolvere i tuoi problemi accetta ti è successo qualcosa da piccolo ti hanno abusato anche soltanto verbalmente non per forza fisicamente sei stato maltrattato sei stato tutta la vita bullizzato qualsiasi cosa hai sofferto e stai soffrendo tuttora la prima cosa che la Torah la psicologia ti insegna è accetta la tua situazione perché se tu non accetti la tua situazione non ne uscirai mai sarai sempre con uno scheletro che gira dentro di te cercherai di soffocare questo scheletro dentro di te ci riuscirai per breve tempo o anche per lungo tempo ma prima o poi boom questo scheletro di nuovo spunta fuori e ti farà sempre più di male la psicologia ti insegna tira fuori questo scheletro combattilo ovvero affrontalo accettalo accetta la tua deficienza la tua mancanza qualsiasi essa sia accetta che tu hai un problema accetta che sei quello che sei dopo che accetti quello che sei adesso possiamo cominciare a parlare di guarigione ma finché non ti accetti finché pensi che tu sei qualcos'altro finché ti metti la maschera sugli occhi non sulla bocca sugli occhi come fai a guarire se tu hai ti sei creato una facciata non uscirai mai continuerai a ingannare te stesso vai in introspezione combatti tra te e te ognuno di noi deve appunto accettare questi limiti e accettare per quello che noi siamo e solo dopo possiamo essere veramente felici vuol dire che quando tu ti accetti pian piano riuscirai a mettere a posto tutte le tue lacune e questo vale anche con Hashem nel nostro rapporto con Dio non soltanto con il nostro rapporto con il prossimo con noi stessi nel nostro e il rapporto con Dio ricordiamoci cari amici Dio non pretende da nessuno di noi di essere Abramo Isacco Giacobbe Mosè Giuseppe nessuno di noi qui è Mosè ok perciò noi a volte abbiamo paura di incontrare Dio perché ci sentiamo lontani da Lui perché vuoi perché non abbiamo studiato la Torah tutta la vita tutta la vita non abbiamo osservato nessuna mitzvah non abbiamo vissuto in una famiglia ortodossa osservante allora arriviamo a un certo punto che diciamo ma io mi vergogno di andare davanti a Dio guarda come sono conciato e cosa facciamo? ci allontaniamo da Dio perché? perché non ci accettiamo questa storia ci viene a raccontare che ognuno ha un pacchetto un vestito su misura le prove che noi abbiamo le difficoltà che noi abbiamo sono state fatte date a noi da Dio ognuno ha il suo challenge la sua la sua prova da superare ognuno su misura per la sua forza se tu non sei Abramo e non lo sei tu devi dire io sono cresciuto in questo modo sono stato educato in questo modo adesso a 40 50 60 anni mi sono un attimo avvicinato alla mia religione non devo sentirmi che sono di meno da tutti gli altri che sono nati in una famiglia osservante perché io non sono di meno io semplicemente non ho avuto la fortuna che hanno avuto loro però adesso io mi prendo la mia vita in mano e dico anche se sono in ritardo di 60 anni beh ci metterò un po' di più ma arriverò anch'io e questo è il punto tutti dobbiamo accettare la nostra vita la nostra famiglia ovviamente dobbiamo andare avanti migliorare studiare crescere ma non con l'idea devo diventare come lui voglio essere come lui sì voglio essere sì è bello lo devo è la mia meta è il mio il mio mentore sì ma non pretendere di essere veramente come lui forse ci arriverai forse no l'importante è che sei in crescita che sei in movimento e non rimani di fermo l'importante è che non ti faccia paura la tua realtà e dire anzi anzi Ravmiki sempre ci insegna che chi è più lontano chi arriva più tardi in realtà può salire molto più in alto perché perché ha la spinta la voglia di una persona che da ex novo comincia una vita nuova è una vita piena di energia di desiderio di crescere di volontà a questo punto una persona che arriva con 60 anni di ritardo può soltanto arrivare più in alto di quelli come me per esempio o come altri che hanno avuto una famiglia o un'educazione ebraica dal primo giorno di vita questo è un messaggio non dobbiamo sentirci mai meno mati o deficienti davanti ad altre persone Shabbat Shabbat Shalom a tutti prego veramente a tutti di inoltrare questa lezione a più persone possibili per semplicemente aiutare il mondo intero a guarire Shabbat Shalom a tutti